Questa persona è accusata di tre aggravanti, quindi queste saranno e queste rimarranno, perché io voglio giustizia per mio figlio, ucciso con 23 coltellate a tradimento, punto. Per me non c'è più niente da dire. Vi ringrazio che continuate a tenere alto la memoria di mio figlio e continuare a chiedere giustizia per mio figlio, perché è quello che merita, perché mio figlio era una bravissima persona ed è morto per invidia e gelosia, punto. E io voglio l'ergastolo, pieno. Sono nette e determinate le parole di Laura, mamma di Pierpaolo Panzieri, ucciso con 23 coltellate il 20 febbraio di un anno fa nella sua casa di Via Gavelli, in centro storico a Pesaro. Si chiede la pena massima per punire l'insensata crudeltà di Michael Alessandrini, accusato dell'omicidio del 27enne pesarese e arrestato in Romania dopo un paio di giorni di fuga internazionale, susseguenti al delitto di sangue. Parole esternate all'uscita dell'udienza preliminare che oggi ha aperto il processo per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dai futili motivi. Oltre a mamma Laura, presente in tribunale Papa Pietro, il fratello Gianmarco. Assente dall'aula, invece, Michael Alessandrini, rimasto nel carcere di Villafastigi per una scelta di linea difensiva dell'avvocato Salvatore Asole, affiancato in questo processo dal legale di fama nazionale Carlo Taurbina. Difensori che hanno inoltrato al giudice la richiesta di rito abbreviato, sottolineando come l'aggravante della premeditazione non sarebbe compatibile con la semi-infermità mentale precedentemente dichiarata dal collegio di periti che ha esaminato lo stato psichico di Alessandrini. Le tre contestazioni relative agli aggravanti, cioè la premeditazione, i futili motivi e la crudeltà, sono circostanze le quali non trovano riscontri negli atti processuali e soprattutto nella perizia disposta dal giudice delle indagini preliminari. Per cui si deve pronunciare sulla possibilità che esistano o non esistano gli elementi per la contestazione e se non esistono noi abbiamo fatto istanza di giudizio abbreviato che naturalmente laddove si affermasse che non esistono potrebbe essere svolto il processo col giudizio abbreviato. Si è riservato e ci farà avere la decisione notificandola con PECC. Le questioni che abbiamo sollevato è quella della compatibilità tra quello che vi dicevo, un dato certo che è la semi-infermità e l'eventuale qualora sussistente premeditazione. Per tre ore fuori dall'aula gli amici di Panziere hanno atteso quanto emergesse dalla prima udienza mostrando foto di un sorridente Pierpaolo. La nostra vita ormai è cambiata per sempre e niente, l'unica cosa che speriamo tutti è che Michael abbia la pena più severa possibile e confidiamo nei nostri avvocati tutta la giustizia perché tanto Pierpaolo non ce lo darà più nessuno indietro. È passato quasi un anno e più passa il tempo e più è peggio per noi. Ti rendi conto veramente che non tornerà più e che un'altra persona ha deciso per la sua stessa vita. Si cerca di dare delle spiegazioni, il problema è che è molto dura trovarle. È il classico tipo di cose che fino a quando non ti riguarda, non ti succede sembra sempre, è brutto dirlo, ma sembra sempre che possa succedere agli altri o riguardare qualcuno di esterno o in un altro posto del mondo e invece è stata dura per questo trovare delle spiegazioni perché questa volta riguarda proprio noi, riguarda una persona speciale che era buona come il pane quindi le spiegazioni non siamo riusciti a trovarle sinceramente, è molto dura. Ci aspettiamo giustizia, giustizia che sia equa e che faccia il proprio corso. Noi abbiamo fiducia e continueremo ad averla fino al verdetto.